Finalmente su strada il nuovo DS7 che incarna il savoir-faire francese e fa appunto il suo esordio oggi. Un comfort senza pari e dei propulsori elettrificati fino a 360 cavalli. È proprio il 360 cavalli la novità, la trazione integrale sviluppata con i colleghi del DS Performance, quindi con il team che si occupa di Formula E. E ancora una volta la Formula E è il laboratorio da cui prendiamo le migliori tecnologie. Le novità non riguardano solo i propulsori, riguardano anche le linee rinnovate del frontale con una griglia ridisegnata e i nuovi gruppi ottici. DS Automobile è il logo che firma il posteriore e indubbiamente aumenta anche un po' l'awareness del nostro brand. A bordo viaggiamo nella raffinatezza dei pellami, delle lavorazioni artigianali che da sempre caratterizzano il brand DS. Non mancano le tecnologie sia di assistenza alla guida, sia di sicurezza, sia quelle legate alla connettività. Siamo sicuramente orgogliosi di introdurre DS rivisitato, perché DS comunque rappresenta il nostro best seller sin dall'inizio. E a questo punto non resta che scoprirla. Andiamo a guidarla. Grazie. Grazie.